Benvenuti e buon inizio 2023. Come avrete già capito dal titolo, quest'anno non vi troverete come primo grande video del 2023 la mia top manga del 2022, l'anno scorso. Questo perché mentre stavo compilando proprio la mia lista dedicata ai migliori titoli che ho letto durante l'anno precedente, mi è venuto in mente una cosa, mi è balenata in testa un'idea, ovvero quella di fare una flop del 2022. E mi è venuta in mente soprattutto per un motivo ben particolare, ovvero mi sono chiesto una cosa, come mai in tutto il mondo dell'intrattenimento, quindi videogiochi, cinema, pro wrestling e quant'altro si fanno ogni volta le flop, mentre è molto molto raro che si vedano nel mondo dei manga e dei fumetti in generale, che si abbia paura di scontentare qualcuno che sia un mondo composto da gente un pochino più pusillanime. Non lo so e non mi interessa saperlo, quello che mi interessa è cambiare le cose. E quindi da quest'anno su questo canale troverete anche la lista dei peggiori manga usciti nel 2022. Naturalmente non vuol dire che siano tutti manga bruttissimi o sceni o schifezze, nonostante ne escano decine perché il nostro mercato, oltre a tanti bellissimi capolavori o comunque manga godibili, ne sforna davvero tantissimi che sono nient'altro che monnezza, spazzatura completa. Roba veramente da farci denunciare dalle associazioni ambientaliste per spreco illegittimo di carta. Ma ci sono anche qui manga che sono magari deludenti e deludenti può essere rivolto a tante cose, ad esempio rispetto alle aspettative che una persona aveva prima di leggerlo, magari date dall'annuncio in pompa magna, o da aspettative che il singolo lettore si era fatto per altri motivi nella sua testa. Detto ciò, se alcuni di questi manga invece a voi sono piaciuti, parliamone qui sotto nei commenti. Prima di partire vi ricordo solo che in descrizione trovate tutte le info per venire in Giappone con me a marzo del 2023. Ah, questi titoli saranno classificati da quello che io ho trovato meno brutto rispetto a quello che ho trovato più brutto, ovviamente, essendo una flop. E quindi direi di partire senza ulteriori indugi. Al decimo posto di questa flop troviamo Noa of the Blood Sea, un manga di Yu Satomi, completato in Giappone in 5 volumi e che in Italia è ancora in corso. Diciamo che questo, ecco, appartiene sicuramente alla categoria delle delusioni, perché appunto a vedere le copertine mi ero fatto delle grosse aspettative, su questo che sembrava un horror veramente fatto molto molto bene, coinvolgente, che potesse prendermi da grande amante del genere horror quale sono. Invece devo dire che il primo volume è stato proprio una doccia fredda, disegni che non rispettavano assolutamente quelli delle cover, una cosa che purtroppo sta succedendo anche nel manga quando era molto più, diciamo, di uso comune nel mercato occidentale, americano in particolare, è una storia, secondo me, priva di mordente, che comunque ci mette di fronte a dei vampiri, un tema un pochino abusato all'interno di questo genere. E seppur l'ambientazione sia abbastanza particolare, questa nave da crociera dove appunto le persone, diciamo, vengono raccolte un pochino così per essere offerte a questa famiglia di vampiri, la storia decisamente non è riuscita ad acchiapparmi, anche se, devo essere onesto, nel secondo e terzo volume che poi ho letto, perché comunque lo finisco essendo una miniserie, mi ha preso sicuramente più di quello che è stato l'impatto agghiacciante, ma in maniera negativa, con il primo volume. Ed è per questo che l'ho messo solamente al decimo posto. Anche al nono posto c'è un'opera che non ho trovato brutta, anzi, se devo essere onesto, mi sarebbe pure piaciuta se non avesse avuto alcuni difetti che adesso vi dirò. L'opera è moglie di una spia, su storia di Ryusuke Hamaguchi, Kiyoshi Kurosawa e disegni di Masasumi Kakizaki, ed è appunto un manga tratto da un film. La storia è molto intrigante, molto figa, parla di questa famiglia coinvolta in accuse di spionaggio a causa di quello che fa il marito, e appunto come dice il titolo, il focus sarà molto concentrato sulla moglie di questa spia, ovvero il marito di cui prima. Quello che è, secondo me, il maggiore difetto di quest'opera è che non riesce veramente mai a prenderti totalmente, e non perché sia una brutta storia, semplicemente perché è troppo, troppo veloce. La narrazione è veramente frenetica per questo tipo di storia, che invece meriterebbe di essere raccontata bene e nel dettaglio, probabilmente perché appunto l'autore Masasumi Kakizaki sapeva che doveva racchiudere il tutto in due striminziti volumetti. Sui suoi disegni niente da dire, sono comunque affascinanti, sono originali e riconoscibili, a me il suo stile piace, anche se non è tra i miei disegnatori preferiti in generale, però comunque ha un marchio di fabbrica che riconosceresti tra mille, quindi sicuramente questo è un pregio. Se invece di fare una flop 2022 questa fosse stata una classifica esclusivamente con i manga più deludenti, probabilmente il titolo all'ottavo posto sarebbe stato in cima a questa classifica. E sto parlando di Kaiju 8 di Naoya Matsumoto, un titolo che è arrivato in Italia e non solo, anche in Francia, così come in Giappone con un battage pubblicitario mai visto prima. Una spinta di marketing che probabilmente all'inizio ha fatto pensare ad una serie miracolosa, incredibile, eccezionale, ma che forse a priori, almeno dal mio punto di vista, potrebbe invece nascondere un'altra cosa, ovvero che tutta quella campagna di marketing sia stata fatta per nascondere la pochezza di quest'opera. So che con questo mi attirerò sicuramente le antepatie di qualcuno, che si andranno ad aggiungere a quelle già collezionate per il video Tokyo Revengers e spazzatura, anche perché molte altre persone hanno messo Kaiju 8 nella loro top. Io non so davvero cosa ci vediate. Si dice che sia uno shonen più maturo, semplicemente perché il protagonista è più che trentenne, ma in realtà questo protagonista più che trentenne si comporta come un dodicenne qualsiasi, quindi non vedo davvero la differenza e non ho letto solamente i primi capitoli, ho letto i primi tre volumi prima di dire questa cosa. Sento degli accostamenti totalmente irreali per me con l'attacco dei giganti e ancora mi interrogo perché questi accostamenti esistano? Cos'hanno in comune le due opere, a parte che ci siano dei personaggi enormi? Quindi non lo so, vogliamo accostarlo anche a Mazinga Z? Peccato perché sicuramente l'incipit di questo shonen manga con dei Kaiju come protagonisti poteva essere molto interessante, però secondo me non è stato sfruttato al meglio. Magari con l'anime di prossima pubblicazione vedremo qualcosa di più interessante. Da quel che ho visto per quanto riguarda il piccolo trailer che è uscito, secondo me potremmo avere qualcosa di più interessante rispetto alla controparte cartacea, cosa che succede di rado ma a volte succede. Al settimo posto c'è una di quelle opere che secondo me vengono pubblicate in Italia così come in tutti gli altri paesi occidentali fuori dal Giappone solamente perché probabilmente parte di qualche pacchetto promozionale che le case editrici giapponesi fanno agli italiani e agli altri occidentali, altrimenti non ha veramente senso. Cioè chi è che di propria iniziativa pubblicherebbe Moonlight Invader? Cioè ti trovi lì davanti a una lista di migliaia, centinaia di migliaia di titoli bellissimi, manga stupendi mai arrivati in Italia e dici no, voglio quello lì, Moonlight Invader. Ragazzi voi non avete idea della fatica che ho fatto a leggere questa roba e sono solamente due volumetti. C'è una pesantezza proprio quando giravo pagina mi sembrava di girare fogli di cemento armato. Da quanto poco coinvolgente fosse questa storia. Un tizio praticamente è con la ragazza a cui vuole dichiararsi, questa fa una specie di incidente. Lei rimane ferita gravemente e il suo corpo viene preso in prestito da un alieno con cui poi lui farà tipo amicizia e ovviamente alla fine di questi due semplicissimi volumi saranno diventati i migliori amici. Davvero ragazzi, sta roba qui può piacervi se avete letto quattro manga, nonostante trovare quattro manga più brutti sia effettivamente molto difficile. Al sesto posto c'è un volume che effettivamente ha trovato anche carino nel suo complesso ma che davvero non dice nulla. E si tratta di Super Mario Manga Mania di Yukio Sawada. Un'opera che in realtà in Giappone è tipo un'istituzione che va avanti o comunque è andata avanti per tantissimi anni. E posso anche capirlo avendo come protagonista un'icona di sempre non solo del mondo dei videogiochi ma della cultura pop mondiale. Ovvero proprio Super Mario. Solo che le storie che vediamo in questo volume sono prive di mordente, sono completamente fini a se stesse e davvero poco 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 per niente incisive. Posso capire che magari piaccia a chi è super super fan fissatissimo della Nintendo ma a parte loro dubito che possa piacere a qualcuno che insomma abbia superato i 5-6 anni. Ci avviciniamo ai piani alti ragazzi e al quinto posto troviamo Dragon Slayers di Shingo Honda. Questa non è stata tanto una delusione perché effettivamente conoscevo già l'autore che avevo letto con Hakaiju e quindi sapevo già che effettivamente non fosse tutto questo granché non capisco come mai lavori così tanto. Ecco appunto nonostante io sia un grande fan dell'horror non capisco proprio il suo modo di fare horror. La storia raccontata in questi tre volumi sarebbe anche interessante perché comunque ci parla del folklore, della mitologia giapponese in particolare è un'opera che ruota intorno alla figura di Yamata Noorochi, il più mitico drago del folklore e della cultura giapponese che torna appunto in questo manga in vita ai giorni nostri. Ovviamente il protagonista dovrà fermare questa creatura ma anche qui ci troveremo davanti praticamente ad eventi quasi del tutto casuali. Lui sembra uno preso e messo lì senza nessun senso, altri personaggi soprattutto femminili che sembrano esistere solamente per il fanservice e per far felici i segaioli giapponesi e non. E cosa ci rimane alla fine di questa lettura? Nulla, considerando pure che i disegni di Honda per me sono alquanto anonimi se non parecchio bruttini, freddi, senza tanta espressività, sembra una roba veramente fatta con un'intelligenza artificiale che non sa disegnare. Direi proprio che non ci siamo. Così come non ci siamo assolutamente con l'opera in quarta posizione, mi vergogno quasi a chiamarla opera sta roba, ovvero Batman della Justice League di Shiorite Shirogi. Quattro volumi agghiaccianti. Niente ragazzi, la Justice League si riunisce a Gotham City per proteggere la città e i suoi abitanti da un manipolo di cattivoni. Via, questa è la trama, la trama, la trama. Anche qui è tutto un susseguirsi di eventi casuali, praticamente randomici, che potrebbero essere stati scelti con un programma casuale, con un click. Non c'è niente che dia un minimo di interesse al lettore, non c'è un personaggio caratterizzato bene, non c'è una backstory che possa interessare a nessuno. I disegni della Tessinoghi potrebbero essere anche belli, se non risultassero spesso troppo freddi, troppo anonimi in questo contesto. Ma chi me l'ha fatta fare di fare sto video? Mi sta prendendo veramente il magone a parlare di queste opere oscene tutta in una volta. E siamo arrivati sul podio della vergogna ragazzi, quindi andiamo subito a scoprire quali sono le opere, secondo me, più brutte uscite quest'anno, o meglio, l'anno scorso. Io sto girando questo video proprio il primo giorno del 2023, il primo gennaio, quindi mi devo ancora un attimino abituare. Sul gradino più basso di questo infamante podio troviamo Nihite of the Living Cat, di Hawkman alla storia e Maca Roots ai disegni. Disegni che parto da loro, devo dire, sono veramente fighi. È quasi un peccato, cioè mi sento male per il disegnatore barra disegnatrice che ha dovuto prestare le sue matite e le sue chine a una roba del genere. Ha questa storia totalmente insulsa, che ci parla di un mondo infestato dai gatti. Sì, perché c'è un'epidemia, ma invece di trasformarsi nei tipici zombie, le persone si trasformano in gatti. E quindi la gente scappa perché con il semplice contatto si diventa gatti a loro volta. Ovviamente chi può essere il protagonista se non un grande amante dei micetti. Per far sì che ci potranno essere durante l'opera tantissime gag che non faranno ridere a nessuno. Ah, al secondo posto abbiamo proprio una cosa che puzza di olezzo lontano un miglio, ovvero excuse me dentist, it's touching me, di Sho Yamazaki, qualcuno che probabilmente ha sbagliato mestiere. C'è uno yakuza che ha paura di andare dal dentista. E questo ci sta, eh ragazzi, per carità. È la cosa di cui io ho più terrore al mondo. A un certo punto non si sa perché si convince di andare e qui lo accoglie una dentista stupenda, bellissima, che lo mette a suo agio. sembra praticamente di essere sul set della prima scena di un porno, ma c'è qualcosa che lei nasconde. Siamo donne, oltre alle gambe c'è di più. Ebbene sì, questa dentista è un uomo, ma non solo. È praticamente il capo del clan yakuza rivale di questo tizio che ha paura del dentista e del protagonista, però nessuno dei due si accorge di niente, ovviamente. Come accorgersi del fatto che chi ti sta curando i denti sia non solo un uomo, ma anche il tuo più grande acerrimo nemico. E sta roba è ancora in corso in Giappone, con sette volumi. Ma chi legge sette volumi di stamonnezza? Probabilmente gli stessi che potranno leggere 13 volumi, ovvero quelli a cui sono arrivati al momento in Giappone dell'opera in prima posizione. Quello che probabilmente è il manga più brutto che io abbia mai letto nella mia esistenza. Un manga talmente brutto che per potercelo far comprare l'hanno dovuto chiudere in una bustina sigillata. Sì, sto parlando di quella oscenità, di quella porcheria assoluta di Togenanki, di Yura Urushibara, un autore che io spero veramente possa rendersi conto di cosa sta facendo e di fare una preghiera al dio dei manga, di modo che lo possa perdonare. Che vi devo dire di Togenanki, ragazzi? È una scopiazzatura di qualsiasi shonen di combattimento visto prima, ma ha fatto peggio. I disegni sono tra le cose più brutte che io abbia mai visto. Non sono delle tavole, sono dei test di Rorschach. Sono dei vasetti di inchiostro nero letteralmente buttato a caso su dei fogli. La storia è quanto di più banale possa essere partorito da mente umana. E non è il più grande difetto perché questa banalità viene sceneggiata ancora peggio, in modo affrettato, approssimativo. Talmente tanto approssimativo che praticamente muore il padre del tizio. Ed è un avvenimento che tutti si dimenticano dopo quattro secondi, letteralmente, compreso il protagonista e noi lettori. Perché chiaramente non ce ne frega un cazzo di quei personaggi. È impossibile empatizzare con dei personaggi che hanno la caratterizzazione di un comodino. E niente, ragazzi, fatemi sapere anche voi qui sotto con un commento cosa ne pensate di questa classifica e quali sono i manga peggiori per voi usciti nel 2022. Aprite il box informazioni, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando le notifiche, cliccando sulla campanella. Ovviamente ricordatevi che sono tutte opinioni personali e che spesso in video del genere esagero molto. Non vorrei davvero che ci fosse bisogno di dirlo ogni volta. Vi ricordo che ci saranno diversi video sulle top del 2022, quindi non uno solo, quello che ci sarà lunedì prossimo. Noi ci vediamo alla prossima e ciao! Grazie a tutti!